Non soltanto a mercato in entrata per la Virtus Franca Villa in queste ore potrebbe accendersi anche quello in uscita in casa Biancazzurra. Sì perché nel campionato cadetto sono tutti pazzi per Castorani e una vera e propria corsa a quattro per accaparrarsi il giovane centrocampista originario di Cecina. Sono forti le lusinghe dell'Ascoli sul giovane classe 99 che ha giocato una stagione straordinaria con la maglia Biancazzurra. Un crescendo quotidiano con il giusto mix tra qualità e quantità per un giovane calciatore che ad onor del vero ha giocato la sua prima vera stagione tra i professionisti. Ben 33 presenze in campionato con il Franca Villa condite da ben 6 gol, tutti molto pesanti e caratteristici. È forte il pressing dell'Ascoli che adesso vuole bruciare la concorrenza di spalle Chievo e Cremonese. I bianconeri hanno già avviato i contatti con i club biancazzurro che adesso dovrà soltanto valutare l'offerta dell'Ascoli e decidere insieme al calciatore quale sarà il futuro di Castorani.